Buongiorno dal Tg della mobilità, bus al posto dei tram oggi sulla linea 3, modifica dovuta ad un cantiere che per tutto il giorno sarà a lavoro sulla corsia preferenziale di via Emanuele Filiberto. Le altre notizie, giornata di manifestazioni oggi in centro, la prima questa mattina davanti alla bocca della verità, un sit-in in programma dalle 10.30 alle 13.30, poi nel pomeriggio dalle 16 altro sit-in al Circo Massimo, i divieti di sosta nelle strade vicine scatteranno diverse ore prima, sempre nel pomeriggio dalle 17 corteo da Piazza della Repubblica all'Esquilino. Con le chiusure previste per tutte e tre le manifestazioni nel corso della giornata saranno 32 le linee del trasporto pubblico a cambiare percorso. L'elenco in dettaglio è sul sito romamobilita.it.